Stanno procedendo in maniera molto spedita i lavori per la palazzina in Biabellini, i lavori sono in fase avanzata così come quelli stanno procedendo i lavori del parcheggio adiacente. La Girona Patrimonio insieme all'amministrazione comunale sta predisponendo un bando pubblico di cui tutti gli interessati, cioè giovani coppie, anziani, nuclei familiari che ne abbiano necessità potranno partecipare a questo bando e saranno assegnati tutti gli alloggi. Il tutto penso che avverrà nel giro della pubblicazione, nel giro di un mesetto circa. Invece faremo l'assegnazione e il tutto sarà completato massimo entro l'anno, speriamo. Nel frattempo stiamo predisponendo anche il recupero degli alloggi nel centro storico così come è tutto previsto dal programma dei cosiddetti PUC, dei piani urbani complessi, nell'ambito del progetto Giuliano Urban Regeneration.